In questo video vediamo i 5 migliori frigoriferi combinati in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo! Numero 5 Al quinto posto troviamo Klarstein. La combinazione di congelatore e frigorifero, con le sue dimensioni generose, è ideale per single, camere degli ospiti o casette da giardino. Grazie al funzionamento silenzioso non disturba né i tuoi pensieri, né tanto meno il tuo sonno. Grazie al raffinato frontale di design in tre varianti, la combinazione di frigorifero e congelatore porta un tocco di colore nella tua cucina. Nel 2008, Klarstein ha iniziato a rivoluzionare il mondo degli elettrodomestici. Nel tempo, il mix di materiali di alta qualità e design moderno e senza tempo ha permesso di dare forma a una gamma impressionante, in costante crescita. Il prezzo è di 249 euro. Numero 4 Al quarto posto troviamo Isense. Questa serie di frigoriferi dispone di diversi colori tra cui bianco, grigio e nero. Non ti resta che scegliere quello che si adatta meglio alla tua cucina. L'ampiezza del balconcino permette di conservare bottiglie più large oppure due strati di lattine per risparmiare spazio sui ripiani. I ripiani in vetro possono essere spostati o rimossi in base alle necessità di spazio interno. L'illuminazione ha luci ed illumina ogni angolo del tuo frigorifero ed è anche delicata sui tuoi occhi. La parte posteriore del frigorifero è rivestita di una copertura in metallo per garantire maggiore sicurezza e protezione. Il prezzo è di 284 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3 Al terzo posto troviamo Kiku. Soddisfa tutti i tipi di esigenze quotidiane con una capacità di 117 litri. Con soddisfacente controllo della temperatura per tutte le stagioni. Con dispositivo di controllo multilivello. Ha 5 ripiani e vani rimovibili ottimizzati per la refrigerazione per uno stoccaggio flessibile a seconda delle esigenze personali. Gli scomparti possono essere riallocati per conservare diversi tipi di cibo e succhi. La porta del frigorifero non è divisa. La superficie uniforme si adatta perfettamente a qualsiasi cucina elegante. Il prezzo qui è di 315 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo Premier Tech. La ricerca Premier Tech ha concepito un prodotto di altissima qualità, in grado da limitare al massimo le emissioni, riuscendo nel medesimo tempo a consumare pochissima energia. Questo risparmio energetico contribuirà ulteriormente al miglioramento del clima mondiale, un piccolo gesto che, unito a molti altri, riuscirà a portare il nostro mondo verso una situazione più vivibile, nel pieno rispetto della natura. Inoltre a conseguenza di questo, si avrà anche una netta riduzione dei consumi, che porterà inevitabilmente ad un rilevante risparmio in ambito economico. Anche a livello di spazi interni si avrà la possibilità di scegliere e di comporre la migliore soluzione possibile. Il prezzo è di 540 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo Samsung Frigorifero combinato Con comparto frigorifero da 230 litri e con 4 ripiani in vetro temperato. Questo frigorifero combinato garantisce una capacità interna di 344 litri grazie alla tecnologia SpaceMax che consente di ridurre lo spessore delle pareti. Ogni zona del frigorifero garantisce un freddo uniforme tramite un sistema di bocchette che permettono una circolazione ottimale dell'aria. Così la temperatura rimane costante e il cibo rimane più fresco. Inoltre garantisce una temperatura costante, senza brina e ghiaccio così i cibi mantengono la loro freschezza e conservano i loro nutrienti. Inoltre, No Frost riduce il fabbisogno energetico e tiene il frigo fresco più a lungo. Il prezzo è di 613 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi tutti i link ad Amazon sotto al video. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.